mercato ancora sotto tortura sotto il torchio di questo orso di questa fase di bassista ragazzi quando inizierà una nuova fase sui mercati come si fa a capire soprattutto al di là dell'attuale situazione come si fa a capire quando i mercati sono pronti a iniziare una nuova fase di app bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video il secondo video che faccio durante una nuova e maturata fase di orso mini orso dei mercati delle criptovalute ragazzi allora andiamo ad analizzare un po' la situazione ma soprattutto rispondere a questa domanda ragazzi come faccio a capire se i mercati stanno ripartendo e che cosa devo andare a guardare per capire questa cosa qui diciamo questa distinzione prima di passare però ai grafici di spiegarvi quelle che sono le diverse fasi di mercato perché oggi andremo ad analizzare quelle che sono le fasi di mercato di distribuzione di accumulazione ri accumulazione sui grafici quindi andiamo a fare un po' di teoria da questo punto di vista vi chiedo di iscrivervi al canale ragazzi se ancora non l'avete fatto e poi di lasciarmi un pollicione perché mi aiutate come sempre con il super algoritmo di youtube oggi c'è il cane vedete se abbaglia abbondantemente è una maglia e chi si ama sono affezionato sul canale moltissimi di voi se la ricordano va bene ragazzi allora questo è il grafico che dobbiamo andare a guardare a guardare oggi e intanto facciamo un po' però il punto della situazione a livello teorico ragazzi allora il mercato affronta quasi sempre a prescindere dal trend in questione quindi dall'orizzonte che noi andiamo a guardare che può essere un orizzonte di piccolo taglio oppure medio oppure lungo il mercato affronta quasi sempre diverse fasi di struttura che sono la fase di accumulazione la fase di trend la fase di topping poi la fase di distribuzione ragazzi ok che cosa sono queste fasi allora la prima fase di accumulazione allora potevo anche mettervi per esempio un grafico teorico però ho deciso di farlo direttamente ragazzi sul farlo direttamente sul grafico e farvi vedere questa questa queste diverse fasi direttamente su un grafico ragazzi la fase di accumulazione partiamo dalla prima avviene nel momento in cui i mercati stazionano su un livello di equilibrio su un prezzo di equilibrio prima che scoppi un uptrend questa situazione o fase di accumulazione è solitamente coincidente con una fase di maturità in cui molti cambiamenti all'interno della struttura di un mercato vengono messi in atto non sono fasi caratterizzate da grandi oscillazioni solitamente le oscillazioni sono blande non sono eccessive nel caso delle cripto come vedremo sono abbondanti e servono un po' a tirare i remi in barca far salire gli istituzionali all'interno del mercato e poi prepararsi a un uptrend che però deve essere sempre o almeno quasi sempre è dovuto alla presenza appunto di innovazione di un qualcosa che cambia quindi c'è un trigger che fa scattare una molla che fa muovere poi i mercati in quella direzione allora ragazzi nelle fasi di diverse fasi diciamo di accumulazione piccola ne ha avute diverse l'ultima che possiamo vedere è questa qui questa è un'ultima fase di accumulazione questa qui ragazzi ok tutta questa fascia qui in realtà è un'accomunazione molto ampia in termini di oscillazione ho fatto disegni terrificanti io come sempre faccio dei pessimi disegni a mano comunque è una fascia abbastanza rilevante e vi faccio vedere anche le entità per esempio in termini percentuali circa il 200% di oscillazione se poi vogliamo togliere i livelli estremi di prezzo e agire diciamo nella parte centrale circa 90 punti di oscillazione è tantissimo per una fase di accumulazione la precedente quella che era stata nel 2015 era questa ragazzi ok ed era avvenuta più o meno all'interno di queste due fasi una volta percata questa fase il mercato inizia la sua fase di bull la fase di bull l'abbiamo vista appunto dalla break dei massimi intorno a novembre una volta che sono stati breccati non questi massimi qui ragazzi ma questi e infatti avevo insomma più volte citato diciamo la questione è nel momento in cui è avvenuto questo tipo di break vedete chiaramente qui a livello settimanale in questa zona il mercato non si è mai più fermato quindi iniziato la fase di bull dopodiché ci sono altre questioni che dobbiamo andare a vedere dopo la fase di bull il mercato inizia una fase di distribuzione prima di una fase ribasista solitamente fa così a meno che non ci sono dei mercati estremamente in bolla come quelli delle cripto e quindi il mercato in pratica ha difficoltà a gestire delle fasi di distribuzione molto lunghe solitamente scoppiano in breve tempo e vanno giù e i mercati vanno giù però la fase di distribuzione ragazzi ha delle caratteristiche e noi dobbiamo stare a guardare questa fase per capire se il mercato se bitcoin sta effettivamente creando una fase di distribuzione attualmente quindi con questi prezzi attuali che sta facendo oppure sta creando una fase di ri accumulazione questa è la vera domanda perché le fasi di distribuzione in termini di analisi tecnica possono essere di due tipi possono essere distribuzione per un'inversione di trend di medio lungo periodo oppure ri accumulazione per un ritorno al trend principale in questo caso rialzista sempre di medio lungo periodo quale delle due figure sta disegnando bitcoin andiamo a guardare un po' questa struttura di grafico allora ragazzi vedete qui queste sono tutte settimane sono le settimane quindi questi sono grafici settimanali allora tutta questa fase che va dal 15 di febbraio facciamo una cosa provo a mettervi anche la linea la linea perché si vede forse un po' meglio con la linea ragazzi però a me non piace guardare ma molti grafico così e quindi io lo guardo sempre a candela mi facciano più i colori e lo rimetto a candela perché proprio non riesco ragazzi comunque la fase di distribuzione di bitcoin in questo caso non è stato molto ampia è stata minima ed è all'interno di questa struttura di prezzo cioè una distribuzione che è andata da febbraio a maggio quindi quanto sono ragazzi marzo aprile maggio sono tre mesi tre mesi di fase di distribuzione che ha poi scatenato la fase ribassista che abbiamo visto in questo caso ora questa fase ribassista che è stata creata ad hoc ragazzi perché nel momento in cui questa settimana vedete la struttura che vi sto mostrando in questo momento è venuta meno il mercato non ha dato neanche il tempo chiaramente nella classica conferma della candela ha breccato al ribasso e ha scatenato un flash crash queste sono figure che nel trading analisi tecnica classica sono poco frequenti ma io ne ho parlato tantissimo e ho sempre detto a tutti che queste figure sono sempre più comuni anche nei mercati gold e bisogna abituarsi perché questo è dovuto all'incremento della parte tecnologica in questi mercati cioè ai bot tutti i sistemi ai computer che causano flash crash non danno la possibilità alle informazioni di muoversi lentamente ma siccome si muovono velocemente allora tutti gli investitori intervencono vendono flash crash l'ho detto più volte questa cosa è un'innovazione degli ultimi anni quindi non la troverete mai su vecchi libri di analisi tecnica perché non esiste una cosa del genere perché non c'erano i bot che ci sono in questo momento allora questa fascia qui ragazzi essendo stata breccata ha dato il via ad una inversione di trend dopo una fase di distribuzione ora la questione è questa fase totalmente presa nel suo insieme ok può essere anche una fase di distribuzione così ma anche una fase di riaccumulazione se io vado a guardare l'intera struttura quindi non soltanto il piccolo rettangolino qui come fase di distribuzione ma tutta una fascia che può essere indicativa di questa struttura qui ragazzi e può indicarci una fase in cui bitcoin deve tirare i remi in barca riequilibrarsi e adattarsi ai nuovi prezzi quelli attuali intorno ai 40k e poi eventualmente decidere se riprendere un trend in futuro come facciamo a capire se questa struttura sarà stabile o meno oggi vi spiego un po come si deve ragionare allora fate un po' attenzione in questo momento ragazzi allora una fase di distribuzione barra riaccumulazione ok cambia nome sempre dopo che il mercato ci dà una direzione quindi non è possibile prevedere in anticipo questa cosa a meno che non andiamo a ragionare da un punto di vista di analisi fondamentale diciamo ah ci saranno delle novità importanti per questo tipo di mercato stanno lanciando un nuovo prodotto ad esempio non so è un apple che lancia un nuovo prodotto che va e gli fa fare tanti moni e allora quella è più possibile che sia una fase di riaccumulazione nel caso delle cripto questo non è possibile farlo perché mancano proprio questi dati fondamentali allora come facciamo a capire questa cosa l'indicazione sarà sempre ed unicamente data dal prezzo ragazzi perché su bitcoin non c'è molta alternativa però ci sono dei dati di analisi on chain che sono fondamentali per esempio l'analisi dei nuovi indirizzi aperti l'analisi di quelli che sono le transazioni sugli exchange se arrivano nuovi bitcoin per essere venduti oppure depluiscono dalle whales per entrare sugli exchange allora lì un pochettino il dubbio ci viene se da un punto di vista per esempio di rivoluzione del settore si è bloccato qualcosa non arrivano innovazioni tecnologiche si sta bloccando tutta la situazione allora quello è molto importante da andare a vedere allora tutte queste analisi noi le faremo ma sono analisi lunghe ci vogliono mesi per fare questo tipo di considerazioni non serve un solo grafico andare a guardare che magari dei bitcoin sono arrivati sugli exchange oppure il grafico di una coelza due giorni serve guardarlo a livello trimestrale ragazzi non sono quei tipi di dati sono dati che vanno visti nell'ottica di periodi di quadrimestri trimestri ok non possono essere visti nell'ottica di un giorno però sui prezzi un pochettino l'idea generale di che cosa può andare a fare bitcoin ce l'abbiamo ragazzi cioè quello che potrà fare nei prossimi mesi è stare all'interno di questa struttura di prezzo se riesce a mantenerla la struttura di prezzo in questione potrebbe tenere i prezzi di bitcoin qui disegnato in questo modo anche per diversi mesi ragazzi perché no potrebbe starci anche 6 7 8 mesi ok non sarebbe neanche male a dire la verità perché perché un mercato che staziona in un super quadratone che sarà poi definito distribuzione o ri accumulazione e si rinforza ragazzi e soprattutto si riprende da uno shock allora quello che è successo al mercato in questa settimana è uno shock pensare che da qui si riparta a buve l'ho già detto nella live l'ho detto in Almi Academy l'ho scritto dappertutto non è il massimo e soprattutto io non penso che sia così è vero motivo che diranno bitcoin recuperato di 30 è tornato a 40 ma non è un reale recupero che i 30 erano un eccesso ragazzi perché il vero prezzo di arrivo di questa fase ciclica era intorno ai 40 38 mila dollari era quello che ci aspettavamo dalla famosa chiusura annuale poi come sempre qui anche una mia dimenticanza me lo devo ricordare ragazzi io vengo sempre dal trading sul mercato classico che non ha queste oscillazioni mi devo ricordare che bitcoin esaspera questi movimenti e spesso e volentieri poi si cade in preta di flash crash quindi insomma si è allargata la soglia ragazzi del 20% nell'arco di pochi minuti ok questo purtroppo mi devo ricordare di aggiungere questa questo sale questo pepe al mercato delle crypto perché in effetti ha questa peculiarità quindi fintanto che il minimo che ha fatto questa settimana regge per i prossimi giorni perché questi cinque giorni come avevo già detto nell'ultima live sono essenziali quindi ci vuole martedì mercoledì prossimo per capire meglio le questione va benissimo che stia in mezzo a questa fascia quindi se vi aspettate la ripresa av no ragazzi quindi ok nel momento in cui io devo andare a decidere come entro su questo mercato adesso compra adesso non compro ragazzi bisogna ragionare sulla logica di una barra di congestione enorme di tanti mesi e andare a ragionare quindi con il compro se sono sulla parte bassa della barra e poi eventualmente vendo sopra oppure se sto cercando di accumulare vado a cercare gli accumuli dove all'interno di questo quadratone gigante rettangolone gigante nella parte bassa ora qual è la questione ragazzi è che noi non siamo sicuri che questo sia la parte bassa di questa barra di congestione perché ancora è troppo presto l'ha disegnata solo adesso bisognerebbe lasciare un paio di settimane a bitcoin respirare eccetera mentre siamo sicuri della parte alta che sono i massimi storici ok quindi questa l'ha già testata più volte quindi 60 e passa potrebbe essere la parte alta di questa barra di congestione quindi bitcoin la sta creando questa barra di congestione poi come si fa a capire se il trend riprenderà solo e unicamente ragazzi quando questa barra di congestione verrà breccata in questo caso proprio in questo punto quindi moltissimi noi stanno dicendo adesso ricominciamo allora noi staremo sul mercato già da prima sicuramente con l'utilizzo dei trading system e le tecniche di trading anche per questo che serve molto essere formati ragazzi ma dal punto di vista statistico la fine di questa fase quella che stiamo vivendo ora ora in questo momento avverrà solo al superamento dei massimi storici di bitcoin prima di allora nulla cambierà da quello che vi sto dicendo in questo video entriamo in un nuovo momento una fase di distribuzione barra riaccumulazione cosa sarà delle due ce lo dirà il mercato breccando questi due livelli ora se questo livello nella parte alta lo abbiamo definito a priori ed è sicuramente un livello valido questo qui abbiamo bisogno di qualche altra settimana cioè i 28 ragazzi più o meno ok i 28k se verranno definiti come livello per la parte bassa se un domani bitcoin andrà a fare una cosa del genere un po e poi ci va a breccare questo livello questo punto sarà definito come inversione di lungo periodo di questo mercato ed è rientro in un mercato orso e a quel punto questa fase sarà possibile definirla come distribuzione dei di bitcoin quindi in questo momento siamo nel limbo siamo nella fase limbo però sappiamo entrambe le cose ragazzi ok quindi se questo mercato diventa nei prossimi giorni estremamente debole e fra un mese due mesi tre mesi va a breccarci la parte bassa che vi ho indicato probabilmente stiamo entrando nel mercato orso e bye bye sogni di gloria per un paio d'anni almeno un annetto ok poi si vedrà però fintanto che questa barra di congestione si mantiene ragazzi questa fase può essere anche definita come ri accumulazione cioè una fase di riposo del mercato che poi sfocia con un break dei massimi storici in questo caso 64 con un nuovo bull market come quello che vi ho fatto vedere all'inizio di questo video quindi in questo momento in questo momento ragazzi l'occhio deve puntare al fatto che bitcoin possa stare all'interno di questa fascia più tempo possibile perché perché se ci sta più tempo il mercato matura matura anche un livello di prezzi che precedentemente molti hanno definito bolla per esempio tutta questa fase avvenuta con i famosi tweet di ilon musk probabilmente questa fascia di prezzo era eccessiva per bitcoin si è riportato in una fascia mediana secondo me la fascia di prezzo mediana questa qui appunto intorno ai 40k può attrarre bitcoin per un po di tempo ma abbiamo bisogno di una settimana per capire se questo livello di minimo il mercato lo accetta come parte bassa della barra di congestione quindi ci serve ancora qualche giorno ma iniziate ad abituarvi a questa logica bitcoin entra in una nuova fase non è più mercato bull quello che abbiamo visto dalla in pratica il mercato bull era iniziato dal break di questa struttura quindi ottobre 2020 entriamo in una nuova fase che non è più mercato rialzista ma mercato in barra di congestione quindi laterale laterale ragazzi alla all'interno di questa barra il mercato oscillerà e postarci quanto vuole ragazzi ok l'importante è che soprattutto una volta definita la parte del da appoggiare la parte bassa non vada a breccarlo poi ovviamente all'interno del canale vi spiegherò anche come importante che questa fase coincida anche con una struttura ciclica che è quella del nuovo ciclo annuale che ha chiuso non ha chiuso è presto per dirlo ragazzi per capire se ha chiuso il ciclo annuale dobbiamo aspettare il prossimo ciclo mensile che deve ancora iniziare probabilmente questa settimana ci darà le risposte ovviamente che stiamo cercando ragazzi allora per il resto somma per qualsiasi cosa c'è master che si può dire c'è master che non so non so che volevo dire è andata così va bene io adesso sono ciao a tutti alla prossima